Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio Facciamo gli auguri al Rimini Calcio ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo E allora andiamo ragazzi Il calcio di tutti lo è anche in un giorno in cui si registrano le vittime a Corinaldo rispettato un minuto di silenzio prima del via a qua rimanda in campo da più o minuto Nava al posto di Scott e già questa è una notizia il tecnico la giustificherà così nonostante sia un match molto delicato ho visto la situazione di classifica per ambedue le formazioni Anche per alternarli il Nava non l'avevo mai visto in 5-6 mesi Nava non ha fatto mai un minuto in una partita ufficiale ero curioso di vederlo anche tra i portieri adesso prima c'era il fatto che tra i portieri non si potevano toccare se no il portiere ha un ruolo particolare il portiere ha un ruolo come un altro che ci può stare come fanno anche squadre molto più importanti di noi ci può stare anche un po' di turnover tra i portieri Pronti e via i rimini già il terzo va in gol Volpe apre per Simoncelli che indovina l'angolo laddove l'anno scorso il Coppa Italia contro la San Maurizio e centra la prima rete con i colori bianco-rossi il repreci mostra la bravura dell'esterno in maglia numero 7 nel seguire l'azione capitanata da Volpe la reazione della Binoleffe non tarda ad arrivare Ruffini pennella per l'incornata di Agnelli che trova di testa l'angolo vincente per l'1-1 il repreci mostra la deviazione di testa del centocampista in maglia numero 8 con il pallone che si infila nel 7 alla destra di Nava a nono Volpe grazie anche alla complicità di Gavazzi si invola verso l'area avversaria Cosel ci mette una pezza un minuto più tardi Sibiglia sfida di testa la marcatura con il pallone che termina fuori di un nulla dall'angolo ospiti nuovamente pericolosi sbaffo tocca per Ruffini attraversano al centro per la testa di Gelli che questa volta mette sul fondo ma i rimini la vita facile agli avversari si complica dannatamente la vita da solo Gelli ha il tempo di incuniarci in area locale sfruttando al meglio un assist di sbaffo di mettere successivamente al centro laddove Sibilli indovina il piattone vincente che spedisse il pallone in fondo alla rete difesa da Nava il sorpasso è compiuto la Binolefe che non ti aspetti mette in sera difficoltà i rimini con un 1-2 micidiale Acquare a questo punto non ci sta vuole vincere in match il cambio Venturini guibre dopo 25 minuti di gioco è una sana dimostrazione Agnello invece si traveste da lupo prova lui a mettere paura a Nava che è costretto a distendersi onde evitare il tris a 45esimo Candido finora non pervenuto scalda i guantoni a coser che è costretto a rifugiarsi in corner rimini che esse tra i fischi del pubblico di casa ma nella ripresa la musica cambia Ferrani sfiora di testa la marcatura coser respinge come può sotto misura mentre al 49esimo guibre scambia con volpe l'attaccante segue protezione della sfera e passaggio di ritorno per il compagno che indovina l'angolo alla sinistra di coser per il 2-2 momentaneo facendo esplodere i neri a Binolefe a questo punto non ci sta il tiro di Agnello da fuori aria non esce molto dalla porta difesa da Nava a 64esimo invece sbaffo appoggia per Gelli tiro a giro di quest'ultimo che scheggia la traversa Nava battuto a 67esimo Giorgione a sfiorare la marcatura il suo destro finisce non lontano dal palo alla sinistra di Nava a 77esimo Gelli appoggia per Stefanelli il difensore prova un tiro a giro che termina alto al minuto 85 finalmente si vede anche il Rimini Candido come nel primo tempo dalla distanza chiama l'intervento coser mentre dall'angolo stesso Candido indovina la traiettoria che porta al gol di Ferrani quest'ultimo si sfugge alla marcatura di sbaffo trovando il secondo centro di stagione che vale i tre punti risultanza con tecnico vice allenatore a braccio dei compagni meritato per Ferrani dopo alla fermana arriva un altro gol in campionato a 91esimo il neonato Capone crea l'ultimo brivido alla porta difesa da Nava ma il portiere devi è in corner a 92esimo finalmente Rimini può alzare le mani al cielo a Coria segue un cambio dopo 24 minuti di gioco e già questa è una notizia voglia di vincere dimostrata dal proprio allenatore associata a quel pizzico di fortuna che non guasta mai anche se la Binoleff penultima in classifica a Rimini fa la partita e rischia di fare lo sgambetto un avversario che ha capito che laddove non arrivano i mezzi tecnici arriva quel pizzico di fortuna che a volte serve per vincere le partite il migliore per i Rimini in mezzo a una partita decisamente sbagliata specie nel primo tempo è Guibre il suo ingresso reca pericolo alla porta della Binoleff e il gol lo testimonia giornata da dimenticare per tutta la difesa mentre diamo la sufficienza a Nava alla prima da titolare per la Binoleff il migliore è Agnello oltre i gol tanta qualità a lui aggiungiamo i compagni di centrocampo Gelli e Sbaffo Gelli e Sbaffo